Come si è allenata la squadra in questa settimana, come ci arriva la sfida contro il Brindisi e cosa ti aspetti dal Bitonto domani? Mi aspetto di vedere il Bitonto, il Bitonto di questa stagione, il Bitonto che ci ha abituato a prestazioni importanti. Ci sono dei momenti storici in un campionato che fanno parte di un percorso. Questo per noi è un momento storico importante, i ragazzi lo sanno, ma d'altronde quando si è primi, mancano nuove giornate, le prossime nuove tappe saranno tutti momenti importanti per noi. Ora concentriamoci su quello di domenica, soprattutto mi preme vedere anche da parte della città una certa risposta. Una certa risposta è verso una squadra che merita tutto in questo momento. Quindi non voglio sentire né se né ma, capisco che quando non si vince il tifoso giustamente possa esprimere il proprio parere. Però io invito veramente, senza nessuna critica, invito i tifosi a una riflessione. Questo non è il momento eventualmente di dire alla squadra se domenica scorsa è stato il miglior Bitonto, il peggior Bitonto, se la partita è stata affrontata bene o male. Siamo ormai a nove partite alla fine. Questa squadra penso che si sia meritato in questo percorso il sostegno da parte di tutti, senza se e senza ma, senza condizionamenti. Perché questi ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario fino ad oggi, io penso che rappresentino un po' un orgoglio per tutta la comunità bitontina. E questo orgoglio penso che la città glielo deve. E in questo momento, a maggior ragione, io penso che tutti i tifosi brindisini, tutti quelli che parlano del Bitonto, tutti quelli che vivono, che sognano insieme a noi qualcosa di incredibile, penso che sia arrivato veramente il momento di far sentire a questi ragazzi tutta la vicinanza e tutto l'apporto di un'intera città.